Meta-controversiale è un aggettivo di recente conio che sta a significare una qualità di stato esprimibile al di là della controversia, metà in greco al di là, al di sopra. La ricerca delle soluzioni ad una lite con la conciliazione o mediazione civile e commerciale creativa è metà-controversiale, poiché supera gli ambiti tradizionali della spartizione proporzionale della torta data, ovvero di ciò che appare convenzionalmente concedibile a mezzo di reciproche concessioni tra le parti. La soluzione creativa invece indaga ambiti al di fuori e al di là delle evidenze fenomeniche della controversia, ambiti che appartengono ad un'altra sfera, ad una sfera superiore, non evidente, sensibile, avvicinabile solo con un approccio delicato, creativo e fantasioso a questo problema. Grazie a tutti!